Buon appetito a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video come al solito io sono Gabriel io Birillo oggi andremo per vedere un nuovo liquido vai Birillo esponicelo allora si chiama White Start è un liquido al latte di cocco liquidoso per quando fai spiaggia all'estate si perfetto per un tuo cocktail si che senti quel profumino di cocco mi piccante poi passa a coccobello ora andiamo a fare la prova di questo liquido alzo ricordiamo il periodo da svapografia Marina di Carrara Moliciare la Spezia la Venza e Sanzana a breve a breve ora andiamo a fare la prova 70-30 un liquido alzo bellissimo allora è bello il Pegasio questo cocco con testa un pistone il pistolero del cocco con il cappello da bandito e la canucetta che gli esce dalla parte liquidoso eccolo qui andiamo a fare la prova vai Gabri sul Ghani al Druga io su una boxettina single battery in modo meccanico con l'Apocalypse tira intorno all'ottantina di watt andiamo a sentire un un pochino meglio l'aroma spallorditivo questo liquido qui è buono cavolo a me che mi piaceva il cocco questo qua ci ha preso in pieno meglio di tanti altri libri che abbiamo assaggiato precedentemente non vogliamo fare i nomi però seven wonder una marca molto ottima si a fare i liquidi sono dei questo voto 10 bellissimi perché è buonissimo proprio il gusto del cocco un latte di cocco cremoso tanta roba quasi panni quasi di panna di cocco non lo so una crema di cocco guarda la buonissimo voto 10 voto 10 voto 10 questo lo consigliamo chi lo vuole provare allora dalla taverna dello swap è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale ricordatevi che abbiamo la pagina su facebook e su instagram era un pochino che non eravamo e non eravamo attivi sul canale perché ho avuto un po di problemi che mi sono operato ora siamo stiamo ritornando si riparte si riparte a fare qualche video l'estate guarderemo di portarvi tanti liquidi tanti liquidi boxettine cose che stanno uscendo per tenervi aggiornati su la taverna dello swap allora la taverna dello swap è tutto ciao ciao ciao